Ben trovati amici del Centro Meteo Italiano. Come da ultimo decreto ministeriale per limitare ulteriormente gli spostamenti, questi video saranno realizzati senza la presenza del meteorologo in studio. Tempo stabile e sole prevalenti in Italia, ma attenzione ai locali temporali pomeridiani. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per martedì 7 aprile. Nulla da segnalare al mattino con cieli in prevalenza sereni su tutta la penisola. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo sulle zone interne del centro-sud, con piogge temporali su Calabria, Sicilia e Sardegna. Isolati i fenomeni anche sull'Apennino centrale. In serata e nottata fenomeni in esaurimento ovunque con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Temperature senza variazioni di rilievo sia nei valori minimi che in quelli massimi. Per ulteriori dettagli seguite tutti gli aggiornamenti sul nostro sito o sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.